Gol fatto? Fatto fare pure il gol? Sì, su un gol diciamo che ci siamo capiti male io e Matteo, quindi ci può stare. Magari era la prima partita che facevamo insieme, quindi ci volevamo un po' di affinità. Tu sei un difensore, dicono con il gizio del gol. Si dice, l'anno scorso ne ho fatti tre, quando eri in Serie D ad Olvio ne ho fatti altri sei in due anni, quindi alla fine sì, mi piace fare gol se mi trovo da mano. La samba è prima? Manu male, ancora il campeonato a lungo. Raccontaci un po' il gol perché...